I governatori, io, Maroni e Chiamparino, che è il nostro vicino di casa, parleremo di quelle infrastrutture strategiche che riguardano le nostre tre regioni, ma non sono un narcisismo campanilistico, sono infrastrutture che servono al sistema paese per crescere. Il porto di Genova è un patrimonio non della Liguria, dell'Italia, il terzo valico è indispensabile, la Lombardia è il 20% del nostro PIL, il Piemonte è una regione importante che con il valico verso Lione si collegherà alla Francia. Sono infrastrutture che permettono all'Europa di riprendere il passo del mondo che cresce e servono al nostro paese. Che cosa potranno insegnare questa sera gli imprenditori Liguri e Lombardi e viceversa?